Mi ricordo che sono andato in questo negozio di pesca con mio babbo, abbiamo preso questa prima canna e la mia attrezzatura era una bustina della spesa con tutte le cose, piano piano ho iniziato cassette, canne e via dicendo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie! Grazie!